che odore avrà alla fine del mondo un'esplosione un'esplosione che cambia forma e sapore alle cose un'esplosione di un chicco di mais che diventa pop corn la fin du monde di talibre d'orange accordo di polvere da sparo miscelato ad un accordo di pop corn per un profumo giovane e scoppiettante un odore che ricorda i vecchi cinema quando si accendevano le luci e lo spettacolo era giunto al termine e così mentre il mondo sta finendo ci troviamo comodi sul divano con i nostri pop corn caldi appetitosi accoglioci l'armageddon in diretta tv buona catastrofe sopravvissuti